A Pescara si chiama Progetto Azalea ed è stato presentato nei giorni scorsi. A Montesilvano e Spoltore si chiama Progetto Aria ed è stato presentato stamattina. Nomi diversi ma identiche caratteristiche, tanto per la nuova Pescara c'è tempo, verrebbe da dire, ma evidentemente la lunga e complessa tappa di avvicinamento verso la fusione tra questi tre comuni, prevista per il primo gennaio del 2027, non riguarda ambiti come quello dell'inclusione sociale attiva per soggetti svantaggiati. E così Montesilvano e Spoltore se ne vanno per conto loro poco male quando si tratta di assicurare sostegno a chi ne ha davvero bisogno. In collaborazione anche in questo caso con la ASL di Pescara, tramite l'azienda speciale di Montesilvano, comune capofila, con una dotazione finanziaria di circa 1.200.000 euro, vengono messi a disposizione strumenti per l'accesso al mondo del lavoro attraverso tirocini e attività lavorative vere e proprie in una sorta di matching tra tutto ciò che riguarda il terzo settore e le associazioni di categoria come la CNA. Uscirà l'avviso proprio oggi e attraverso appunto una selezione che verrà effettuata proprio dagli operatori, dagli assistenti sociali dell'azienda speciale, ci saranno dei criteri ben definiti che comunque non sono stringenti quindi possiamo dire che quello che è importante è che ovviamente ci sia uno svantaggio sociale del soggetto ma che ci sia ovviamente la volontà di mettersi in gioco, la volontà di rientrare quindi nel mondo del lavoro con tutti i supporti possibili e immaginabili attraverso le competenze che noi abbiamo all'interno dell'azienda ma soprattutto attraverso le competenze di quegli enti del terzo settore che sono stati individuati proprio per accompagnare durante il tirocinio questi beneficiari. Fa un po' il paio con il progetto Azzalea del Comune di Pescara per questa cosa? Allora, noi ricordiamo che c'è stato Abruzzo Include 1, quindi siamo in Abruzzo Include 2 vorremmo continuare ad avere un filone, anche e soprattutto ricordiamo che c'è in atto il progetto Agora quindi quello che per noi è importante è fare dei progetti personalizzati ma soprattutto la novità, che quindi questo nasce anche dall'accordo di tutta la rete del tavolo di lavoro è quella di coinvolgere gli enti ospitanti perché